La segna stampa di lunedì 18 maggio 2015, ben ritrovati a tutti cari telespettatori, sono le 7.30 in diretta sul canale 17 di FanoTV per sfogliare i giornali che come sempre troverete in edicola. Prima il santo del giorno, lo vediamo subito, oggi è San Giovanni I, Papa, il sole è sorto alle 5.40 e tramonterà le 20.29. Il tempo, il tempo di oggi, allora vedete una bella giornata di sole dopo i capricci del fine settimana, anche se poi ieri è stata una giornata comunque all'insegna del bel tempo. Questa è la fotografia della nostra webcam dell'osservatorio meteorologico di FanoTV e allora andiamo a vedere la temperatura a quest'ora è le 7.30, sono di 15 gradi, temperatura di 15 gradi e 4, insomma fa fresco ma poi salirà come vedremo. Oggi cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani soprattutto sugli appennini. Avremo qualche breve rovescio nel pomeriggio, sempre sull'appennino ma relativamente alla parte meridionale della regione. Poi temperature, temperature in aumento, eventi di brezza tesa nord-occidentali. Per martedì, domani, 19 maggio, ancora sulla costa, cielo sereno, sole che splende, temperature in ulteriore lieve aumento. Resta un po' di instabilità sui sibillini, sulla parte meridionale della regione. La tendenza per i prossimi giorni, settimana all'insegna della variabilità per la prevalenza di flussi occidentali e sud-occidentali. Probabile miglioramento per il fine settimana. Andiamo a leggere i giornali allora. La cronaca, subito, un poliziotto della questura di Pesero rubava cocaina dalla cassaforte della questura a scoprirlo i colleghi, che lo hanno subito bloccato. L'agente è stato sospeso dal servizio. La sospensione è un provvedimento temporaneo in attesa di un pronunciamento del giudice sulle responsabilità del poliziotto. Aveva rubato, prelevato dalla cassaforte 20 o forse 30 grammi di cocaina. Era quella sequestrata nei giorni scorsi a spacciatori e poi conservata in cassaforte in attesa della distruzione. Per quello che si è preso, scrive il giornale, tutti e tre i quotidiani. L'uomo di cui non è stato reso noto il nome ha preso la chiave, sapendo come usarla per trovare la droga. Ha aperto la cassaforte all'interno della squadra mobile e preso una parte del quantitativo di stupefacente che vi era custodito. Sotto invece uno schianto dopo un sorpasso azzardato. Guardate le fotografie. Una Fiat Punto con una coppia di giovani del Costa d'Avorio si è scontrata con un Opel Corsa condotta da una giovane senegalese. Il frontale è avvenuto l'altra sera all'altezza della picca lungo l'Urbinate. Qua sotto, eccola qua, un altro incidente che è avvenuto invece ieri mattina alle 7.30 sulla rotatoria di Morciola dove un'auto non ha preso la rotatoria, anzi c'è salito sopra andando a schiantarsi contro il palo della luce sul lato opposto. Poi il Carlino oggi ricorda e festeggia i 100 anni di Onelio Battistoni, un imprenditore del mobile. Oggi Onelio Battistoni compie 100 anni, vedovo da appena un anno di Eles italiani, vive ancora da solo, circondato dall'affetto dei sei figli che abitano tutti nella zona di Pantano con le loro famiglie. Poi ancora dal Carlino la politica con alcune notizie che riguardano ieri c'è stato Alfano per esempio, c'è stato Di Maio, poi nei giorni scorsi insomma Simona Bonafè, poi il tour dei volti noti della politica. Anche se si parla in evidenza della polemica tra il segretario provinciale dei Fratelli d'Italia Bertoglio e la Turiani. La Turiani pensi ai problemi di Fano. Poi elezioni in Movimento 5 Stelle, una folla a Fano, Di Maio senza scorta fa il pieno di applausi. E poi sopra invece una foto con Simona Bonafè, Minardi e Ceriscioli che bevano la moretta, bevanda spiritosa tipica della città di Fano. Poi invece questa è una bella iniziativa di un fanese, un fanese naturalista, Luciano Poggiani che ha fatto un lavoro incredibile, quello di raccogliere informazioni sui nostri beni ambientali, li ha rinchiusi, racchiusi in un libro e adesso è pronto per essere letto, custodito e tenuto perché è un volume di 182 pagine con 42 rigorose schede descrittive che è stato presentato l'altra mattina a Fiorenzola di Focara nella sede del Parco del San Bartolo. Insomma una bella iniziativa con davvero c'è tutto il materiale possibile e immaginabile. Luciano Poggiani dicevo fanese a cui dobbiamo tante pubblicazioni, dobbiamo anche la fondazione di un'associazione meritoria come l'Argonauta oppure la sistemazione di ex ambienti degradati, divenuti scrini di biodiversità come lo Stagno Urbani, Lagovicini e soprattutto a lui si deve anche una generazione di nuovi ricercatori. Diceva Poggiani ho provato a condensare una cosa gigantesca, quindi a condensare una cosa gigantesca cercando di trarne l'essenziale. 182 pagine, 42 siti. Bene, andiamo sull'altra pagina del resto del carino, si parla di sanità, i dializzati rimarranno al San Salvatore di Pesaro, prima vittoria dell'associazione, dunque niente trasferimento definitivo alla Santa Croce di Fano, intanto si fanno i lavori. Dunque c'è questa marcia indietro dell'azienda Marche Nord sulla gestione dei pazienti che a Pesaro si sottopongono a dialisi. Dopo i lavori di ristrutturazione del padiglione situato al San Salvatore, infatti il reparto verrà rimesso in piedi mantenendo tutti gli attuali 18 letti e aprendo così la prospettiva di far rientrare sia i pazienti pesaresi che saranno temporaneamente dirottati sull'ospedale di Fano, sia una parte di quelli che ci vanno già per mancanza di posti. Il 15 ottobre è previsto l'avvio dei lavori nell'attuale sede della dialisi. Intanto domenica prossima con partenza da Via Toscana c'è l'iniziativa dove i diabetici camminano insieme lungo il fiume. All'Agrario ci stiamo avvicinando ai giorni di protesta per quanto riguarda il mondo della scuola. All'Agrario i professori protestano di notte, sciopero all'incontrario contro la riforma. Noi lavoriamo per davvero. Domani notte Villa Caprile sarà illuminata a giorno, in queste ore i professori dell'Agrario stanno definendo infatti gli ultimi particolari di una nuova manifestazione contro il disegno di legge scuola. L'hanno chiamata notte prima del riesame. Ancora dai giornali, apriamo il Corriere Adriatico, la politica. Loro sono un pericolo per la Regione, loro intesi come Ceriscioli, Mezzolani, il PD eccetera eccetera. Parla Spacca che ieri era in compagnia di Alfano del Ministro dell'Interno che è venuto a Fano, come vedremo tra poco, all'Eccelsior di Pesero ha parlato di sanità, di infrastrutture e poi ha lanciato bordate anche a Ceriscioli e Mezzolani che sono, dicono, Spacca, dice Spacca sono i responsabili del fallimento. Questura, poi si è parlato di Questura, l'Ospedale Unico, Fano Grosseto, Casella Autostradale, tutti gli errori della classe dirigente locale. Poi su questa provincia, dice Pesa, una cappa di conformismo dalla quale vogliamo liberarvi. Poi sempre dal Corriere, la pagina di Fano, ecco sempre la politica di mezzo in questi giorni di campagna elettorale. Sapori e motori, piace e big della politica. Sassonia ha fatto il pieno tra esposizioni e ghiottoneria, negli stand anche Alfano e Di Maio. La Profil Glass invece, quella dei dipendenti, è stata una vera estorsione. Per la prima volta interviene tramite il suo avvocato Marco Cassiani la Profil Glass a spiegare il suo atteggiamento di fronte alle richieste estorsive dei suoi dipendenti posti al momento agli arresti domiciliari. Apriamo il messaggero. Il messaggero centro storico faremo i fatti. Il sindaco Ricci alla Confcommercio dice che entro un anno i lavori per un milione e mezzo di euro. Tra le priorità la gestione del bar degli orti Giulie, l'illuminazione e la sistemazione del giardino. Poi c'è spazio anche qua sopra per le notizie in breve dove si parla di sport ovviamente, del moto mondiale, il moto GP. Vale secondo, Valentino Rossi secondo dietro Lorenzo ma resta in vetta al mondiale. Poi Gio Maro presenta i suoi mostri in gara al festival di Cannes e a Urbino si gira un thriller poliziesco per la televisione tedesca. Centropagina il ministro Alfano che dice porterò delle buone notizie, tornerò qui a Pesaro con delle buone notizie sulla nuova questura, lo vedremo tra poco. E poi visitabile a luglio la Domus di Via dell'abbondanza. L'idea di musealizzare gli scavi è stata illustrata durante il ciclo di incontri dell'Archeoclub. La Fondo di Ceriscioli, ancora politica sul messaggero, la Fondo di Ceriscioli, tutta la macchina regionale al servizio di spacca cambierò perché non voglio servi. La polemica sui fondi per le aree interne, dice, i ruoli organizzativi saranno selezionati per merito. Notte rosa, i commercianti chiedono di poter un'aderoga alla Regione Marche per gli sconti, per i saldi, associazioni di categoria favorevoli ad anticipare la data degli sconti al 3 luglio, poi si parla della scuola Rodari, il Comune di Pesaro renda subito note le analisi. L'ex Presidente del Consiglio d'Istituto dice non sappiamo ancora nulla degli ultimi rilievi dell'ARPAM e poi sulla vendita delle quote di Marche Multiservizi, SEL critica, così si rinuncia al controllo. Zucchi dice Ricci non pensa al futuro della sua città ma l'operazione gli serve come trampolino. Chiudiamo con l'ultima pagina del messaggero Alfano, la nuova sede della Polizia, tornerò presto con buone notizie. Il Ministro dell'Interno ieri Alex Celsior ha ricordato il tavolo di lavoro aperto l'anno scorso e si è detto fiducioso. La profilglas sulla presunta estorsione non temevamo perché tutto è in regola. L'Avvocato Cassiani parla per l'azienda, vittima di un ricatto, minacce basate su accuse infondate. Poi su quella vicenda dell'uomo scomparso, alfanese scomparso da due anni in Albania, l'Onorevole Ricciatti chiede aiuto al Governo. la parlamentare di SEL torna alla carica perché le autorità italiane facciano di più. La rassegna stampa termina qui, grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie. 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 Grazie.